Ci siamo incontrati cinque anni fa, subito dopo il mio pensionamento. Daniel è molto dolce, ma quando beve troppo diventa aggressivo. Io amo Bruno, ma ogni tanto quando bevo me la prendo con lui, anche per delle piccole cose. Potrei prenderlo a pugni. Faccio di tutto per non farlo arrabbiare. Quando c'è una lita mi sento in colpa. La cosa peggiore è che non posso parlarne con nessuno. Nessuno sa che sono bisessuale. So che sono violento. Dovrei smettere di bere, ma non ci riesco. Non so più cosa fare. Ieri ero alla farmacia. Ho ricevuto un volantino. C'era scritto che si può chiedere aiuto al centro di competenza vecchiaia senza violenza, anche in forma anonima. Li chiamerò per vedere ciò che posso fare. Magari proporrò a Daniel di avere una consulenza insieme. Non è mai troppo tardi per chiedere aiuto. Centro di competenza vecchiaia senza violenza. 08 48 00 13 13 Dicci. Grazie a tutti